Mauro Sighicelli Il cielo in una zucca Capitolo 1 Mai nella storia della città di New Country si ricordava un periodo così torrido. Il caldo era tanto che i gelati si erano sciolti nei congelatori, che si poteva cuocere la pasta negli stagni e che la fronte dei grattacieli era imperlata di sudore. «Meno male che anche questa giornata è finita!» esclamò presso dalla calura un grattacielo di 254 piani, la cui facciata ricordava un gigantesco specchio. Era soprannominato da tutti i tower per la sua imponenza. «Si sono secate tutte le piante e si è squagliato il rivestimento di catrame, andando a colare sui balconi. Chissà come si infuriranno i condomini!» commentò un grattacielo giallo canarino. Non era tanto alto, solo 126 piani, ma era tenuto in grande considerazione perché era stato costruito da un famoso architetto che si era sposato con la figlia del sindaco. Lo chiamavano «brige» per via della sua forma sinuosa. In realtà i grattacieli di quel quartiere non vedevano l'ora che la città andasse a dormire per scambiare quattro chiacchiere fra loro senza landi rivini degli umani e, soprattutto, senza quell'insopportabile calura. In effetti, la vita durante le alte stagioni trascorreva velocemente per la gran quantità di cose da fare. In autunno c'era il problema dello smaltimento delle piogge, in inverno scattava l'emergenza neve, in primavera ci si dava una bella ripulita per l'approssimarsi della bella stagione. Ma in estate si era tutti più stanchi, più desiderosi di una bella vacanza e scarsamente motivati a lavorare con tutto quel caldo. Figurarsi poi quell'anno, quando ogni record era stato battuto. Capitò una sola volta che un grattacielo partisse per una settimana di vacanza al mare, ma fu un disastro, per gli umani, stupiti di non vederlo più al suo posto e per tutti gli oggetti che conteneva. Quell'avventato di un grattacielo cominciò anche a frequentare corsi di nuoto, inzuppando tutti i piani, gli uffici, le abitazioni, i negozi e ci vollero anni per riportarlo alle origini, anche perché, dopo essersi sdraiato e aver conosciuto i benefici di un salutare dormita, non ne voleva sapere di tornare dritto. Così, per quieto vivere, i grattacieli convennero di rimanere per sempre fermi nel luogo dove erano stati costruiti, proprio come gli alberi. Così, si sentivano anche un po' più in sintonia con la natura circostante. Quella sera, però, il caldo aveva veramente fatto sballare la testa a tutti. Pride, un edificio di 358 piani, un po' vanitoso e petulante, fu il primo a prendere la parola. «Si sta qui e non parlatemi neanche di bere qualcosa insieme. Dopo questa giornata non voglio fare niente fino a domani». «Ma come?» comentò Tower. «Proprio oggi, che è l'anniversario di River, festeggia il cinquantesimo anno della sua fondazione e voleva fare un po' di baldoria». River era un grattacielo apprezzato da tutti per le sue doti comunicative. Non litigava mai con nessuno e cercava di mantenere un clima disteso tra tutti i colleghi del quartiere. Tower pensò che la festa di River avrebbe scosso positivamente l'ambiente. Così erano i collochi da grattacieli e tutto sarebbe continuato come al solito se non fosse stato per l'arrivo del signor John Smith, un essere umano del tutto particolare, abile negli affari, tranquillo nei suoi discorsi, ma con un grosso handicap fisico. Era troppo alto. Si sa, le persone alte sono privilegiate, vedono il mondo sotto un altro punto di vista, sono brave a giocare a pallacanestro e riescono a prendere i libri sullo scaffale più alto senza dover ricorrere alla scala. Ma John Smith era decisamente troppo alto, almeno quando grazie a cielo. E questo a loro non faceva assolutamente piacere. Da prima iniziò a girozzolare con la sua valigetta salutando educatamente, poi cordialmente, infine amichevolmente. Un giorno però tutto cambiò. Prese a buttare le carte delle caramelle sul tetto di Pride, a spegnere le sigarette sui comunili di Pride e a scurrarsi di dosso la forfora facendola scivolare sui tetti di Tower. Insomma, iniziarono a sorgere problemi tra gli umani e i grattacieli. Con grave disappunto si tollerò la situazione dapprima con circospezione, poi con ironia, ma, alla fine, la disapprovazione fu totale. Tutti avevano qualcosa da ridire, o peggio, da lamentare nei confronti di quel signore maleducato. Dobbiamo prendere dei provvedimenti. Tuono Pride in un ridito all'idea di essere considerato uno sporcaccione dai grattacieli ben pensanti per colpa di quel caffone di John Smith. Ci serve qualcuno che risolve la situazione in maniera definitiva. Così non possiamo andare avanti, consigliò a Melody. Una signorina alta, solo 110 piani, ma ben fatta e ben curata, dotata di buonsenso e di tutte le apparecchiature più moderne e funzionali per restare al passo coi tempi. Chiamiamo il vecchio Big. È l'unico in grado di risolvere il problema, sentenzò Tower, ancora risentito per la forfora che John Smith si era scorrollato sul suo tetto e sui suoi comignoli. Il vecchio Big? Ma sei pazzo? Ultimamente è ancora più scorbutico del solito e poi è decisamente fuori dal nostro giro e dalla nostra comunità. Intervenne un altro che evidentemente aveva avuto a che fare con lui. È vero, non è aggiornato come dovrebbe, ma è il più adatto a risolvere casi difficili, continuò Tower. Se siete d'accordo potremo convocarlo stasera da Dorothy. È un luogo a lui caro. Può darsi che, visti i suoi trascorsi, possa anche decidere di presentarsi. Tu che ne dici, Dorothy? Chiese Tower, coinvolgendo nella discussione un vecchio grattacielo, completamente rosa, che sembrava esercitare sullo scorbutico Big una certa influenza, o quantomeno averle esercitate in passato, quando quei colossi dell'edilizia erano ancora giovani. Sarò lieta di spalancare il mio portone d'ingresso per accogliervi tutti a questa riunione, compreso il vecchio Big, anche se sono secoli che non lo incontro. Conclusi estasiata Dorothy, affascinata all'idea che gli altri la considerassero ancora attraente. Grazie. Grazie.